x-moto sega time, ammazziamo il corvo? Mia! Gemma! 12 su 21 le voglio troppo trovare tutte tutte, tutte è fermo, punta solo a destra luce, un passaggio segreto, va bene quanto vorrei più luce in questo momento allora, facciamo le cose con calma porta chiusa passaggio segreto, strada normale qua si cade di sotto quindi non si può andare c'è dell'acqua lì dentro ah, urinatoio puzza urinatoio normale roba strana c'è una chiave non mi serve qualcosa per prendere la chiave dal water perchè la mia amica è troppo schizzinosa per prendere la chiave dal water usa la motosega distruggi tutto distruggi il water prendi la chiave non ti va bene veramente niente mamma mia ragazzi su un po' di coraggio la roba sta già andando a merda così passaggio segreto appunti ah, pensavo di doverli leggere cosa? nuovo testo di anatomia papà leggeva sempre questo ci sono un casino di immagini inquietanti quindi non voglio guardarci guardaci per favore nooo palla di neve quindi palla di neve è un esperimento? hai da buona look yes 4 chips va bene va bene abbiamo delle pinze praticamente ah, ho capito va bene, so dove andare come perchè hai fatto qualcosa del genere? non ti perdonerò mai infatti io non ho fatto una cippa eh quello sta presente allora ho fatto ho fatto bene ho fatto male non lo saprò mai vorrei oh, molto più esterno oh, grazie ho fatto bene a farlo l'ho apprezzato molto lui qui ha distrutto tutta la baracca nooooo a tagli in tutto il suo corpo no cos'è quello? un cappello da notte no, ho sbagliato facile chiave arrastichi una chiave arruginita apprezzerei se non mi succedesse nulla questa chiave è strana eh, metti la via ah, devo pulire la chiave vabbè, giusto hai ragione cioè c'era un po' schifo c'era un po' schifo va bene rastichi preferisci meglio così? no, aspetta voglio tornare a guardare qua dentro cosa? perché? no, prima non c'era prima non c'era prima non c'era salvo, la chiave apre sicuramente questa porta dov'è? dov'è? c'era c'era ah, mi preoccupò e mi spaventava di più no non uscire non uscire there's a drum in the way segalo via dai ho visto la crepa la crepa la crepa nel muro ok, deve esserci un modo per arrivarci c'è qualcuno qua ok con cam facciamo tutto tu stai ti motoseguo eh ti motoseguo eh a sinistra che cosa c'è? passaggio salve, uomo pelato oh, potresti non essere in grado di tornare indietro continui ad andare no, 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 no devo fare due o tre cose prima devo fare due o tre cose prima allora, innanzitutto devo salvare e poi vorrei passare di qua attraverso la crepa che troverò un modo di traversare e devo cercare di non essere visto dalla tipa easy ah, ce n'è un'altra ok facile gemma ok con calma si fa tutto fantastico eh, vabbè così è più difficile però no fuck ho subita eh, non mi hai dato neanche tempo di pensare però allora se sto qua non mi vedono quindi eh, va bene devo infilarmi in mezzo ora yes ecco, vedete la crepa del muro di cui la chiave della cella c'è un modo per uscire da qui o devo rifarmi tutto? dai devo rifarmi tutto che gli è successo? la bambola è a pezzi la bambola non si sta neanche muovendo la bambola è a pezzi la bambola è a pezzi speravo di trovare qualcosa nelle bambole va bene, va bene, va bene lo preferisco tu? io ti libero tu non mi fai male dove vai? oh poi qua dentro non c'è altro quindi dove cazzo sei andato? va bene allora allora con calma procediamo sì sono sicuro di voler andare avanti chiusa aperta caffetteria oh finalmente una stanza in ordine oh lo apprezzo sinceramente perché mi ero un po' oh sono naturalmente più rilassato della situazione pezzo di carne che oh penso fatto bene ah non lo so io l'ho fatto poi poi mi direte si sa si può salvare davvero sempre in sto gioco non c'è niente cuociamo la carne sto semplicemente cuocendo la carne non ho paura che succeda qualcosa sono rilassato sono altamente rilassato ho preso il piatto di carne ora mi siedo e mangio va bene schifo schifo cibo cibo voglio posare il piatto prima perché ne ho preso solo no dai non riesco a respirare e lo sapevo e lo sapevo e spiato che succede grassa di lei no è father padre ah non è papà è edward cullen praticamente sto biondo strafigur non ti preoccupare sono un tuo alleato davvero ah mi dispiace averti spaventato prima il mio aspetto potrebbe averti effettivamente sconvolto la ferita sul tuo volto è opera di mio padre non ti preoccupare roba passata tutti odiate papà insomma cioè effettivamente ah because of our hate for your father we can't be saved è proprio perché odiamo papà che non possiamo tuo padre che non possiamo essere salvati perché la maledizione ci tiene in vita quindi sono venuto per salvare te scappiamo insieme non posso perché devo salvare papà te pare non andare alcuni di quei corpi cercheranno di ucciderti potranno rubarti la vita ma non posso lasciare mio padre e lascia perdere tuo padre no lo salverò lascialo perdere ascoltami oh mi ha chiesto di fare questo quindi no maria ma perché perché non si è scappata perché papà ok lascia il dottore a me per favore hai la mia barola che te lo porterò indieto quindi per favore mister signori devi scappare è passata è passata bellamente sul corpo del tizio maria fammi venire con te ok non ti deve succedere cioè non ha detto che ho detto non ti deve succedere niente devo andare da sola quello che verrà dopo sarà difficile oh sembra che sta venendo per me stia venendo per me scusate devo sistemare questa cosa da sola e io devo sistemare le cuffie ok allora sei stato pure calpestato amico cornuta e mazziato morto e calpestato not moving è morto piccolo taglio durante il quale mi sono soffiato il naso ma io ho un piatto di carne io ho questo piatto di carne però lo voglio portare a qualche parte forse lo devo mettere qui è lui so angry mangia 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 tu mangi mi dai una gemma perché poi qua è che si lavora gratis eh taste is like mamma ma sei anche carino ah non proprio gli standard di mamma ma non era buono ah non ho mangiato niente da quanto sono da quando sono stato rinchiuso qui stavo morendo di fame ah Maria portava sempre cibo giù nel semi interrato non l'hai mai avuto tutti avevano tutti ricevevano cibo ma io no non ero mai ben voluto sono stato abbandonato non ero utile ero inutile guarda come sono diventato attorista sono tutto ho questo cioè prenditi questo è per ringraziarti di avermi dato del cibo grazie suppongo è diventato tutto rosso e poi è sparito napkin va bene ero giusto soffiato il naso un secondo fa mi serviva un secondo fa no 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 dai 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 da non c'è apriti apriti risuccederà slendy ah è lui che ha sistemato la situazione grazie slendy l'ho apprezzato sinistro destra ragazzi ok mi avete detto sinistro che poi è uguale a destra tranne che qua c'è un quadro diverso e è un tizio senza testa una porta aperta questo è spostato questo non c'è questo sopra ma c'è un'altra cosa non sto capendo una chip sono statue manichino di soldato manichino senza testa dipinto di una donna ok prima andiamo a destra perché sono un po' mi puzza di indovinello questo ha una picca che l'altro non ha qua c'è un dipinto storto che io ho addrizzato ah ok 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 ho preso la picca la devo dare a lui i fiori li devo riempire ah devo riempire i fiori ho capito allora suppongo di dover cancellare insomma le differenze fra le due stanze quindi ho bisogno che la tua testa salti easy noob e poi ho bisogno di fiori oh compagno sempre in posti quando meno te lo aspetti hai risolto il puzzle per aprire questa porta? no e mi servono dei fiori ho bisogno di fiori a meno che io non debba tagliare i fiori dall'altra parte ma se io taglio i fiori di qua ah ho preso un bouquet passiamo da sopra che facciamo meno strada si io uso i fiori easy no ho aperto si cosa mi manca? ah si scusate adesso sono uguali si ad occhi e croce si oh ci sono altri misteri mi sta piacendo cioè commentino sul gioco che finora non ho fatto perché l'ho davvero preso bella cazzo santo santo è è e è è è Grazie a tutti.